ciao ragazzi la volta scorza avevamo visto la prima sezione del wooden dummy oggi vi farò vedere la seconda sezione che inizia con il metodo di entrata però dalla parte destra la eseguirò tre volte la prima velocità lenta la seconda a velocità media la terza veloce alla fine vedrete la sezione dall'alto nella stessa modalità così da poterne capire i dettagli a nei video successivi vi farò vedere le altre sessioni ci vediamo nella terza parte e grazie per avermi seguito